Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Finalmente, video, cosa ne penso, di Warhammer Leviathan, la nuova scatola, il nuovo set base, il nuovo immenso set base della decima edizione è finalmente arrivato e non vedevamo l'ora Anche perché è il box più grande creato fino ad ora di Warhammer 40.000, ma forse anche di tutti i loro giochi Ovviamente qualità-prezzo, nel senso miniature, componentiste che c'è dentro e costo della scatola, che poi vedrò a fine video E con questa si inizia la nuova vita di Warhammer 40.000 che rinasce in decima edizione, aggiornandosi al 100% Diventa praticamente quasi un altro gioco, con regole molto più veloci, molto meno complesse, ma a livello strategico e tattico Sempre di altissimo livello, come ci ha insegnato questo capolavoro di Games Workshop Ve ne parlo a breve, dopo la sigla Warhammer 40.000, in questa nuova decima edizione, box base Leviathan per due giocatori Vede da una parte gli Ultramarine e ovviamente Primaris, ormai sono loro i nuovi capitoli quando si va avanti nella storia E da una parte i tirani di appunto della flotta Leviathan Per chi ha letto il romanzo si inizia praticamente, romanzo edito tra l'altro in Italia, che colgo l'occasione per salutare da Alan e Redizioni Dopo la battaglia del pianeta Baal, del pianeta capitale, il pianeta natio dei Blood Angel quando la flotta tiranide attacca E da lì riparte insieme alla crociata Indomitus, che vi ricordate era il box uscito ormai due o tre anni fa, tre anni fa mi sembra Dove da una parte c'erano Ultramarine e Necron Quindi a livello di lore si va avanti nella storia, nella crociata Indomitus portata avanti dal robot Gilman Ma non soltanto lui, perché un altro Primarca si è risvegliato il leone Lionel Johnson, quindi il Primarca di Dark Angel E si porta avanti questa nuova crociata dove adesso i nemici da combattere sono i tiranidi Quindi la scatola più, permettetemelo, iconica che potesse uscire Se andiamo a riprendere anche i vecchi giochi di Warhammer dei primi anni 90 C'erano da una parte gli Ultramarine e dall'altra parte i Genoraptor o comunque i tiranidi E questa volta infatti in questo set base della decima edizione che mira a fare un regolamento semplicissimo E lo è E tornare all'inizio agli albori appunto della saga mettendo in campo le due forze più iconiche Da una parte gli Space Marine, Ultramarine, vabbè poi li potete dipingere come vi pare Comunque da una parte gli Space Marine e da quell'altra i tiranidi In questa scatola, in questo box di base ci sono la bellezza di più di 70 miniature Di cui 40, 45, qualcosa del genere sono tiranidi e tutto il resto Ultramarine Ragazzi, la scatola costa 200 euro, 200 E all'interno ci sono 76 miniature, una cosa del genere Fate il conto, 200 diviso 70 Vi renderete conto che è veramente zeppa Poi aspetta, ci sono all'interno le carte missione Dentro un boxettino solo da collezione che ora nel corso del video vi faremo vedere Le carte da collezione E come se non bastasse c'è il regolamento ovviamente Il regolamento del gioco, inversione a tiratura limitata Collector Edition Quindi tutta questa roba all'interno Che se voi levate il regolamento Ok? Da collezione Mettiamo 50 euro Levate le carte missione Altri 20 euro Vi rendete conto che già il prezzo scala di 70 Mettiamo caso ci rimane comunque come a livello di costo della scatola 120-130 euro 70 miniature? Cioè voi mi volete dire che ogni miniatura costa meno di 1 euro? Questo è... Poi c'è anche un Dreadnought all'interno E un Carnifex per i tiranidi Questo per me è il box più grande a livello di contenuti che abbiamo fatto alla GV Poi ovvio si va a prendere Necromunda con la mappa, la base del tavolo Che è veramente disumanamente immensa Si gioca a 2000 punti contro 2000 Però ho quell'onbox che ne costa quasi 400 Io ripeto, per un box da 200 Che è una scatola base Come ad esempio qui sopra la mia testa A dominio della terza edizione di Warhammer e Ridge of Sigma Ci sono tante miniature Ma non così tante ragazzi 70 e passa miniature Cioè due eserciti completi Parlando delle regole Come vi ho annunciato nel video precedente Non si va del dettaglio Però comunque le regole sono veramente ragazzi Semplicissime Anzi Per me il gioco più semplice Fatto finora da GV Che era come regolamento Age of Sigma Questo è ancora più veloce Però C'ha una nota negativa Che se davvero dovessi dargli un voto Cosa che non faccio più Però gli darei Un 9 su 10 Per una punta soltanto Non scatta il 10 pieno Perché il regolamento è velocissimo Hanno praticamente tolto la fase di comando La fase di comando non c'è più Serve unicamente la fase di comando Per prendere un punto Comando a testa Quindi non conto C'avete 20 eroi 30 eroi Un punto Comando a testa A meno che le regole di qualcuno Ne generino uno nuovo Ma di solito è un punto di comando a testa Fase di comando Finita Nella fase di comando Si fa anche il test Il check della morale Che si fa unicamente Quando la forza iniziale Della vostra unità È ridotta a metà Avete 10 space marine Verranno uccisi 5 Verranno uccisi 6 Ne sono rimasti 4 All'inizio di ogni fase di comando Deve fare il check di morale Se lo superano Bene Se lo falliscono Non possono più conquistare Quindi non hanno potere di conquista E quando fuggano Ripiegano E quindi rischiano di morire Però Comunque non Non è un tiro di morale Che lo fallisce Le truppe scappano Quello non Non esiste più La morale va superata Quindi non c'è più Disciplina 7 Devi fare 7 o meno Ma magari c'è disciplina 6 o più Quindi devi tirare Da 6 E fare 6 o più Come una caratteristica Per colpire Sia in corpo a corpo Che a distanza Si passa Alla fase di movimento Muove le tre truppe Le fai marciare Le fai muovere Fase di fuoco Si spara Ovviamente Fase di carica Successiva quella dopo Quindi le truppe Che hanno sparato Possono caricare E fase del corpo a corpo Poi finisce Si parte col turno nuovo Il gioco è veramente Velocizzato Al massimo livello Gli stratagemmi Sono abbastanza Ma una volta imparati Perché ci sono Quelli Universali E quelli Delle fazioni Che se tra l'altro Tutti quanti i codex Sono sul Warhammer Community Scaricatele gratis Perché poi Piano piano Verranno tolti Quindi quelli Delle fazioni Saranno magari Per ora ho visto Su codex 5 Quelli generali Sono tipo 8 Ma tanto Parlando sinceramente Ci ho già giocato anch'io Trovate una partita Registrata Sul canale Usiamo sempre Li stessi Ma non male Perché alcuni Magari sono un po' Inutili A seconda dell'esercito Andate ad utilizzare Però comunque Ci sono gli stratagemmi Che utilizzate Magari Quello Nella fase Dell'avversario Quello Durante il tuo combattimento Quello Durante la tua fase Di comando Tanto c'è scritto E dettagliato E le regole Sono semplicissime Forse Forse Il punto Che gli vado A dare in meno Si divide Si splitta In due Allora Uno Potevano rendere Un pochino Più Più semplici Di semplice lettura Alcuni stratagemmi Perché dovete andare Sotto a leggere Quando utilizzarlo Ripeto Alla terza partita Che fate Con i tirani Di gli stratagemmi Ce l'avete in testa Non vi serve più Andare a leggere Però magari Tanto lo sappiamo Scatola base Otto Generali Codex Cinque Altre espansioni Altre aggiunte Poi avremo Trenta stratagemmi Che ogni volta Dovremmo andare a leggere Questo fase avversario Questo Fase mia Questo controcarica Era meglio Fare come Age of Sigmar Fase di movimento Due stratagemmi Fase di tiro Uno stratagemmi Fase di carica Due stratagemmi E quelli sono Non si scappa Quindi Lo sai già Quando le devi fare Non è che ogni volta Devi andare a rileggere la scheda E un'antropunta Sfavore Che qui Mi trovo d'accordo Con un mio amico di Livorno Anche lui Giocatore storico Di Warhammer Age of Sigmar E del 40.000 Forse Hanno voluto Renderlo più facile Accomunarlo con Age of Sigmar Ma hanno lasciato Forza e resistenza Che è un calcolo facile La mia forza è più alta Della tua resistenza Colpisco Al 3 o più La tua resistenza è più alta Della mia forza Colpisco Al 5 o più Se la mia forza è il doppio Ti ferisco al 2 Se la tua resistenza è il doppio Ti ferisco al 6 Quindi Rispetta la mia forza Però Visto che avete velocizzato il gioco Io ho forza e resistenza Non le avrei neanche messe E in più Ci si inserisce Una terza piccola cosa Nel mezzo Che le unità hanno troppe armi Quindi il flusso di gioco Si rallenta Perché Warhammer Age of Sigmar Ad esempio Quando combattete con gli Stormcast Tutti hanno il martello A due mani Magari nell'unità C'è il campione Che fa un attacco in più Qui magari Voi non avete visto i tirani Di il culto di Genie Stealer Nella stessa unità Magari ci sono Quello col fucile Da minatore Al plasma Quello con 5 con il mitragliatore Quello col fucile a rete Quello con lancia granate È difficile ricordarsene Tutte a mente Allora dovete sempre Vedere la scheda Tirate Vedere la scheda Tirate Invece era meglio fare Un gruppo di 20 dadi Tirarli E levare Quelle che avevano colpito Li Space Marine Uguale Quello c'ha Determinator Quello c'ha quell'arma Quello c'ha Avete 4 armi differenti Che non terrete mai a mente E ogni volta Dovete sempre andare A vedere il datasheet Datasheet Che da lato Sono chiarissimi Quindi Tutto quello che vi serve sapere È scritto sul datasheet A parte le abilità Le abilità No Le abilità Ve le dovete ricordare voi Abilità delle armi E abilità tipo Attacco in profondità Determinator Vi dovete ricordare voi Cosa fanno Ma tutto il resto Tutto l'equipaggiamento Dalla A alla Z È scritto tutto sulla carta Quindi non dovete più Girare per i codex Quindi da una parte Il gioco è stato Snellito da morire Ma da una parte Per me E GV avrebbe potuto fare Qualcosa in più Lo dico sinceramente Perché L'avessi fatto io Pesnellirlo Avrei messo le armi Col tiro per colpire E il tiro per ferire Io avrei tolto del tutto Forza e resistenza Anche perché Concedetemelo Si parla di un gioco Ambientato nel futuro Dove ci sono armi Tipo Requiem O armi laser Che ti disgregano O Requiem Fucili Requiem Degli Space Marine Degli Adeptus Astartes Che sparano pallottole Così Cioè che sono missili Di un caccia torpediniere Sono così Quindi un colpo del genere Che ti arriva addosso Ed è più grosso Del tuo petto Come puoi tirare Per vedere Se la forza del colpo Passa alla tua resistenza Allora a quel punto Fa molto meglio One Page Rules Che ti fa fare Il tiro per colpire E basta Perché se il tiro ti becca Se io con una spada A due mani Te la do Sulla spalla E il colpo entra Ci sarà dopo Il tiro armatura Per vedere Se l'armatura resiste Infatti il tiro salvezza Ma il tiro per ferire A che serve? Cioè se la mia spada A due mani Ti arriva con tutta La forza di sua mano Su una spalla E ti fadisci il tiro salvezza Ti apro in due Cos'è il tiro Il tiro resistenza? Cos'è? La tua pelle? La tua muscolatura Da The Rock Che assorbe il colpo? Se a The Rock Lo piglio con un bastone Domani io mezza cartuccia E glielo do con tutta la forza Sulla schiena Lo lascio steso per terra Anche a The Rock Capito? Quindi questo tiro Non serve Il tiro forza e resistenza Non serve Avrei preferito Un tiro per colpire E successivamente Il tiro armatura Però vabbè Comunque hanno Hanno sicuramente Senellito Da tantissime altre parti E questo è quanto Quindi il voto È assolutamente positivo In conclusione Tantissimo contenuto Un regolamento Ragazzi Borda Un'altra volta Ci diciamo 200 più pagine di lore Più la lore nuova Nella nuova ambientazione Di Leviathan E con le leghe di Votan Ad esempio Che mancavano ovviamente In Nona Perché al tempo Non erano ancora usciti Quindi Lore espansa Portata avanti E una scatola Da 200 euro Piano di roba Vi ricordo Che è in tiratura Limitata E come per Indomitus Non sono previste Di stampe Anzi Non ce ne saranno Correte ad ordinarla Dal nostro negozio sponsor Gioco Libreria Semola Di cui trovate Il primo link In descrizione In tutti i video E ora In sovrimpressione Ordinate la Perché Sta andando Veramente a ruba Gioco Libreria Semola Ne ordinate 40 Però stanno andando A ruba Cioè ogni giorno Magari ne vende 3, 4, 5 Se non di più E ricordatevi Di usare il codice Discount Coridan 7 Al momento dell'acquisto Scrivete in alto Discount Cliccate Coridan 7 Tutto maiuscolo Tutto attaccato Per avere uno sconto Del 7% Che in una scatola Da 200 euro Sono 14 euro Di sconto In più Per ordini Per spese Sopra 79 euro Non pagate le spese postali Quindi Non pagate nemmeno il corriere E in 24 E in 24-48 ore Vi arriva a casa Isole comprese E anche fuori Dalla nazione Quindi vi arriva anche State in Francia E le ordinate E vi arriva Ragazzi Ordinatelo ora Come vi ho detto Consiglio d'amico A costo di Tenerla a prendere La polvere O a costo Solo loro I tirani Di 150 euro Solo loro Capito Quindi prendetela subito Perché sta andando A ruba Mi raccomando Sul sito Giocolibreria Semola Io ringrazio Tra l'altro Semola Di avermi mandato Questa copia Per farci la recensione E ragazzi Onehammer 40.000 Torna più potente E più bello Che mai In questa sua Nuova edizione Che Fatemelo dire A livello di regolamento E uno spettacolo Poteva essere meglio Ma tutto nella vita Poteva essere meglio Quindi va bene così Rispetto alla nuova edizione È 5 volte più facile E a livello di contenuti Dentro Il mondo A livello di contenuti In 200 euro Avete il mondo Roba che ne costerebbe Venduta Sciolta 400 Quindi fate voi Pagate la roba Che c'è qui dentro Alla metà Quindi è il box In assoluto Più grande E più conveniente È mai fatto da GV Ciao ragazzi Alla prossima Se questo video ti è piaciuto Lascia un like E clicca sulla campanella Per essere sempre aggiornato Ricevere notifiche E non perderti nemmeno Un video in uscita Primo link in descrizione Primi link che trovate Ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook Al canale mio di Live Twitch Alla mia pagina Instagram E alla mia pagina TikTok Che sono sempre aggiornate E su Twitch Mano a mano troverete la programmazione aggiornata Con tutte quante le live del giorno Quindi guardatela sempre Perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata Mi raccomando Iscrivetevi soprattutto ai social Perché sono sempre aggiornati E se devo comunicare qualcosa Anche per il canale YouTube Lo troverete sempre lì Ciao alla prossima